Sicuramente trovo un comportamento assolutamente superficiale di un primo cittadino anche medico che mentre comunque ha qualcosa da ridire sulla cura non mi pare neghi l'esistenza comunque di un'epidemia e che quindi ben dovrebbe avere presente la necessità di dare per primo l'esempio. È una vera e propria strigliata quella che il prefetto di Treviso dà al sindaco di Santa Lucia di Piave Riccardo Sciumschi tra i protagonisti della contestata manifestazione dai contenuti Novax andata in scena domenica a Conegliano e per la quale le forze dell'ordine coordinate dalla questura stanno compiendo delle verifiche. In mattinata sono già state identificate 20 persone ma non è finita qui. Chiaramente sono in corso delle approfondimenti perché è stata fatta l'identificazione di alcune persone, erano molte quindi una identificazione al momento era particolarmente complicata ma comunque anche attraverso le immagini verranno ovviamente fatte le contestazioni e saranno applicate le sanzioni che poi sarebbe la sanzione pecunia di 400 euro. Mi viene da dire poca cosa considerando il danno che è insito nel rischio di far alzare i contagi. Il quadro completo si avrà solo mercoledì nel corso del comitato settimanale per l'ordine e la sicurezza, di certo la stessa questura d'intesa con il prefetto si prepara un giro di vite in vista di eventi analoghi. Questi precedenti conteranno sicuramente perché nel momento in cui gli organizzatori non sono in grado di garantire, di gestire dal loro punto di vista la piazza perché vengono rispettate tutte le disposizioni sicuramente questo verrà valutato dalla questura rispetto ad eventuali ulteriori manifestazioni. E questo mentre l'attenzione delle istituzioni è concentrata sulla ripartenza del 26, una riunione con le categorie economiche, forze dell'ordine, ABI e Banca d'Italia è già fissata per giovedì 22 ma la questione più urgente è il rientro in classe al 100% anche per le superiori con le innegabili difficoltà del trasporto pubblico locale. In questo momento appare assolutamente problematico approntare i pullman per assicurare che tutti i ragazzi vadano a scuola e al tempo stesso con metà della capienza consentita. Imminente anche qui un tavolo di confronto con mom e denti locali anche se l'unico escamotage al momento potrebbe essere rappresentato dagli ingressi scaglionati ma la strada più ovvia non è detto che sia la più efficace.